Un negozio lube non è un negozio come gli altri. Sarà perché al primo sguardo capisci subito cosa significa essere lube. Sarà perché i nostri sono gli unici negozi certificati. Sarà perché insieme possiamo costruire passo dopo passo una storia sempre nuova, scritta con passione e con l'attenzione che serve a renderla unica. Per questo in Italia la cucina si chiama lube. Grazie.